Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono The Linux Nerd e qui impariamo Linux, un comando alla volta. In questo video voglio parlarvi di un argomento un po' particolare ma estremamente interessante che riguarda sicuramente il mondo del retrocomputing ma anche quel minimalismo digitale che mi sta tanto a cuore. Quindi oggi preparatevi perché faremo una spedizione archeologica agli albori del web e vi porterò a conoscere il protocollo gopher. Come sempre prima di iniziare vi chiedo di mettere un bel mi piace al video per darci una mano a portare avanti il nostro progetto di divulgazione su Linux. Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, mi raccomando questo per noi è molto importante e cliccate la campanellina se non vi volete perdere i prossimi contenuti gratuiti che pubblicheremo. E senza ulteriori indugi andiamo a vedere l'argomento di oggi. Gopher innanzitutto di che cosa stiamo parlando? Gopher è un protocollo che possiamo collocare concettualmente a fianco di HTTP, cioè dell'Hypertext Transfer Protocol e in un certo senso che è stato per un breve periodo un suo concorrente. Tutti noi conosciamo il web tramite le pagine HTML trasmesse sul protocollo HTTP, pochi sanno che negli anni 90 esisteva almeno un concorrente principale a questo approccio che era appunto costituito dal protocollo Gopher. Tra poco lo vedremo in azione, ma prima di vedere in pratica come navigare la rete Gopher voglio darvi ancora un paio di informazioni storiche. Gopher nasce nel 1991, come vedete nello schemino qui in basso a destra. È stato creato da due personaggi decisamente particolari che facevano parte del mondo vario pinto che popolava l'Università del Minnesota in quegli anni. In particolare Gopher era nato come protocollo leggero e veloce per organizzare i contenuti gerarchicamente in alberi, in cartelle, esattamente come in un file system. Quindi una filosofia decisamente differente da quella ipertestuale dell'HTTP e per certi versi migliore, per certi versi peggiore, ma sicuramente comunque diversa. Che cosa ha giocato a sfavore del protocollo Gopher? Nel 1993 sostanzialmente una questione di licensing, cioè l'Università del Minnesota ha cominciato a richiedere licenze o comunque a cercare di mettere sotto licenza il protocollo facendo quindi temere ai vari operatori di server Gopher che sarebbe stato necessario poi da lì in poi pagare per mantenere operativi i loro sistemi. Quindi un po' questo, un po' il fatto che sicuramente il WWW aveva molto più appeal, visivamente era più ricco, dava più funzionalità e soprattutto era sostenuto da un colosso come il CERN e quindi aveva alle spalle una struttura sicuramente robusta e interessante in grado di garantirgli un futuro prospero. Insomma, per tutta una serie di motivi un po' legati al protocollo stesso, un po' legati alla forza del suo concorrente diretto, tutti gli anni 90 e i primi 2000 costituiscono un periodo di declino del protocollo Gopher che se fino a un certo punto addirittura era anche supportato dai browser poi pian piano scompare e viene dimenticato da quasi tutti. Ma non da tutti. Nel 2000 Gopher viene rilasciato sotto GNU, quindi diventa possibile scrivere software open source che implementi il protocollo Gopher. Il motore di ricerca principale di Gopher, Veronica, poi Veronica 2 in realtà, rimane attivo, continua a indicizzare siti e al 2022, quindi un paio di anni fa, non ho trovato statistiche più recenti, ma diciamo fino a un paio di anni fa erano ancora indicizzati 325 server Gopher da Veronica. quindi comunque ovviamente numeri microscopici rispetto al World Wide Web, ma comunque interessanti. Perché interessanti? Soprattutto perché Gopher costituisce un protocollo che ai nostri occhi di utenti del web del 2024 ha una sintesi, ha una semplicità che possono risultare accattivanti. Come navighiamo la rete Gopher? Molto semplicemente dobbiamo installare un qualunque client Gopher. Io personalmente vi consiglio per una esperienza veramente full retrocomputing di installare il comando Gopher con apt-get install Gopher, ovviamente, e utilizzare quindi Gopher a linea di comando. Gopher si comporta esattamente come i browser testuali che abbiamo già visto nel video sul navigare da linea di comando, che vi invito tra l'altro a recuperare perché è molto interessante e per certi versi simile all'argomento che trattiamo oggi, ma comunque diciamo Gopher funziona esattamente come i browser testuali, quindi si aspetta che voi digitiate un sito Gopher come argomento. Ovviamente, visto che parlo di Gopher e vi sto dicendo che è un protocollo che personalmente apprezzo molto, non potevo non avere un mio Gopher Hall, così venivano chiamati una Tana Gopher come si diceva all'epoca, e in effetti il mio Gopher site è gopher.thelinuxnerd.it. Non ve lo sto consigliando solamente per autocelebrazione, ma perché in realtà su questo Gopher Hall ho raccolto alcuni link che secondo me sono interessanti, quindi al di là del fatto che vogliate sfogliare i miei contenuti, potete passare dal mio Gopher Hall per raggiungere altri progetti interessanti come per esempio il gopherproject.org. Gopherproject.org, che ha anche un canale Mirk su LiberaChat e un sito web, è collegato a diversi altri progetti del mondo open, raccoglie un pochettino tutte le risorse principali ancora attive sul mondo Gopher, quindi potete utilizzarlo per orientarvi ed esplorare. Come vedete non vi ho neanche spiegato come funziona l'interfaccia di Gopher perché è veramente molto molto intuitiva. Ogni pagina contiene dei link che puntano a documenti o sottocartelle che potete sfogliare semplicemente, nel caso usiate Gopher da linea di comando, con i tasti freccia su e giù, mentre con i tasti freccia sinistra e destra potete andare avanti e indietro. Direi che più semplice di così non si può fare. Andiamo a fare due passi nel Gopher Project per vedere cosa ancora c'è attivo su Gopher. Quindi stiamo navigando, in questo momento siamo connessi al server di Gopher Project. Una parte, una sezione di gopherproject.org che io amo molto è la sezione dei link categorizzati, quindi una sorta di mega directory in cui i siti Gopher sono organizzati per categorie. Ad esempio potremmo andare ad esplorare la categoria Hacking, una a caso, e troveremmo niente di meno che l'archivio di Frack Magazine. Per chi si ricorda e c'era, Frack Magazine è, penso, una pietra miliare, una colonna portante del movimento hacker. Per chi non c'era, questa è un'ottima occasione di andare a recuperarla. Adesso non voglio perdermi troppo nella storia di Frack Magazine, ma se vi interessa posso fare un video per raccontarvela. Fatemelo sapere nel caso nei commenti. Come vedete è uscita fino ai primi anni 2010. Come vedete da questo Gopher Hall posso andare a consultare tutti i vari numeri, e all'interno di ogni numero trovo i vari articoli ancora leggibili in una sorta di archivio digitale della rivista. Questo è un esempio, ma ne esistono tantissimi, veramente nella cartella trovate di tutti i tipi. Per esempio un'altra sezione che a me piace tantissimo è la sezione delle Home Pages. È una sezione in cui sono raccolti blog Gopher, quindi persone che utilizzano ancora Gopher per pubblicare i propri blog, i propri contenuti. Ce ne sono di tutti i tipi che parlano un pochettino di qualunque cosa, e molti sono tra l'altro aggiornati anche di recenti, insomma, quindi continuano a venire aggiornati. Quindi potete esplorare a vostro piacimento. E andare a vedere tutti i contenuti che sono ancora pubblicati su questo protocollo. Decisamente retro, ma anche molto affascinante, proprio per la sua estrema semplicità, la sua grande velocità, come vedete proprio veloce. Veloce, immediato, qui non vi dovete preoccupare di cookie, non vi dovete preoccupare di pop-up, non vi dovete preoccupare di un sacco di cose che affollano il web moderno. Qui non c'è rumore, c'è solamente il contenuto organizzato gerarchicamente. Vedete, per esempio, CNN International. Quindi, notizie. C'è veramente un po' di tutto. Che altro dire? Installate il comando Gopher, andate su gopherproject.org, se volete andate anche sul mio Gopher a curiosare, ma comunque andate su gopherproject.org, andate a curiosare, a cercare se c'è qualcosa che potete trovare interessante in questo pezzettino dimenticato ma ancora vivo di storia del web. Come vedete, ho lasciato con la sezione siti gopher interessanti perché la voglio riempire con le vostre segnalazioni. Quindi, questa è la mia challenge. Fatemi sapere nei commenti i vostri siti gopher preferiti, quelli che trovate più utili, più interessanti, più attuali, anche in questo mondo che corre sempre avanti, probabilmente ogni tanto vale la pena voltarsi anche indietro per vedere cosa c'è. Io sono TheLinuxNerd, se questo brevissimo video sul protocollo Gopher vi è piaciuto e vi ha stimolato a prendere il vostro computer Linux, installare Gopher e andare a curiosare, ne sarò estremamente felice e sono molto curioso di sapere cosa ne pensate nei commenti. Se qualcuno di voi ha un suo sito gopher e me lo vuole segnalare, fatelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, come al solito, vi invito a mettere un bel mi piace e a condividerlo con i vostri amici appassionati di informatica, retrocomputing e sistemi Linux. Se non siete ancora iscritti al canale, questo è un ottimo momento per farlo. Cliccate la campanellina per non prendervi i prossimi video. Io sono TheLinuxNerd e vi aspetto tutti alla prossima puntata. Ciao!